Sono iniziati senza troppo slancio i saldi di fine stagione in Romagna, a causa anche del gran caldo del fine settimana. Favoriti i negozi delle piccole città rispetto alle metropoli. A fare un primo bilancio è il presidente di Federmoda, che dopo un calo dei consumi stimato al 40-50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spera in una veloce ripresa. Inoltre ConfCommercio invita i consumatori a sostenere con i loro acquisti i negozi sotto casa. Nel nostro territorio, purtroppo abbiamo avuto un sabato decisamente, il primo giorno dei saldi, una temperatura decisamente troppo elevata, però diciamo che già ieri con temperature diverse, un po' di cattivo tempo, abbiamo già visto ritornare molte persone e gli acquisti sono buoni. Però va preso tutto il periodo, secondo me, quest'anno, quindi bisogna riprendere tutto il periodo promozionale anti-saldi e poi vedere adesso con i veri saldi che cosa può succedere. I conti si fanno veramente alla fine, questa volta. Ci sono settori del commercio o zone più favorite? Le piccole città hanno certi vantaggi, abbiamo notato che nelle piccole città c'è più movimento, c'è più facilità di andare nei negozi, la gente è più tranquilla.